Ok, siamo sempre qua su Forbidden Siren, adesso proverò un altro capitolo, non li faccio tutti e tre perché credo che più o meno il gameplay sia sempre la stessa cosa. Centro del villaggio, Tana... no, Tanada, facciamo Tanada, Tavanada. In questo livello il tuo obiettivo è guidare Michael e Kikipa, vaffanculo, selezionare l'elenco, corri usando il tasto del triangolo, Ah, nasconditi, corri, e cerca perciò utilizzare il single stack su di lei non ti permette di visualizzare alcuna immagine. Ah, credo che sia lì la visione del digitale terrestre che abbiamo visto l'anno scorso, ho capito il tasto R1? Allora, all'inizio del livello cerca di trovare un'arma, ok, ci sono delle armi quindi. Ok, insomma 8 e 10. Tutto bene? Non potresti camminare più lentamente, così ti perdo. Che... cosa vuoi dire? Non posso vedere senza il mio angioletto. Ah, ma tu sei... i tuoi occhi. Miyako, c'è ancora qualcosa che devi fare. Sai che non possiamo procedere senza di te. Tra non molto qualcuno si farà un viaggetto nell'aldilà allora. L'aldilà? Sembra che ti sia preso cura di mia sorella come si deve. Ti ringrazio. Tua sorella? Ehi! Andiamo! Eh? What the fuck? Sì, lo so. Era solo un video? Forse c'è qualcosa? Stato di famiglia di Junkajiro, ha aggiunto l'archivio. Ok. Ok, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Però qua mi sembra che ci sia qualcosa. C'è una farfalla. No. No? Ok. Proviamo il primo... Oh là! Il primo capitolo. Opzioni. Abbandona. Schermata del titolo. Sì. Ok, c'è qualcosa che non cosa in questo... Facciamo il centro del villaggio. Dai, sto qua. Dimmi che non sei buggato. Ok. Giorno 1. Ah, il tizio di prima, questo. Non c'è più. Non c'è più. Cosa non c'è più? Sangue. Ti sei messo in comunicazione con me, vero? Io... Hai delle visioni? Rilassati. Anche se so che è più facile a dirsi che a farsi. Mi... Mi hanno... Stai bene? Sparato, ma... Oh, capisco. Ascolta, devi venire con me. Qui non sei al sicuro. Ok. Seguimi. Che è successo? Eh, sei di nuovo paccato. Vediamo un pochettino. C'è un altro video. L'acqua rossa ti sta circolando nelle vene. Come l'acqua rossa? È sangue. Al posto di tutto il sangue che hai perso. La tua guarigione la devi proprio acquistare. Che cazzo vi capita alla bocca al tizio? So che sono ancora debole. Ma presto starai meglio. Che sollievo. Ancora un po'. Non importa, dobbiamo sbrigarci. La texture delle facce è tipo una gif che cambia. Chiudi gli occhi. Ma chiudi gli occhi. Ah, posso non metterla parola di Sky? No. No. Ho fatto qualcosa. Premi il tasto L2 per attivare la modalità Sting Drutterly. Muovi la levetta sinistra verso il personaggio per attivare la modalità Sting Drutterly. Premi X. Ok. Ah, posso metterla in prima persona? Mamma mia i comandi. Premi il tasto L2. E questo qua è il tasto L2. Muovi la levetta sinistra. Ma non va. Ma va, fangu. Ti vedi? Sì, mi vedo. È quello che vedo io. Allora, là c'è un mostro. Oh, Cristina. Scappa, Forest. La casa... Non voglio la cassetta delle lettere. Voglio trovare un'arma che gli uccido sti bastardi stronzi. Ok, non posso andare di lì. No. Gesù. Mi sta facendo il solletico. È lì. Ma guardati lì. È morto. Ma non è possibile. È difficilissimo sto gioco. Sono di nuovo morto. Scusatemi. Riprova. Perché è veramente una roba assurda sto gioco. Non so che difficoltà è, ma... L'acqua. L'acqua, sì. L'acqua che ho nelle bene. Chiudi gli occhi. E sparea. Ok, l'ho fatto sì. Sì, lo stringerboffangull. Sì, fa, 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 sì. Aspetta. Dove credi di andare? Dove credo di andare? Io vado di qua. È la strada giusta. Poi cammina come un rincoglionito il suo ragazzino. Ma... Madonna. I comandi. Ma i comandi. Legnosi. È dir poco. E c'era gente che si lamentava del primo Dark Souls. Vai. Io spengo la luce, forse, spegnendola. Ok. Spegnendo... Ne ho visto qualcuno. Di qua? Mamma mia. Non si apre. Ma è un vicolo cieco. Ma allora io dove devo andare? Ecco qua. Va, vaffanculo. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Io l'abbandono quella. Ehi! Dai! Maiacco, Isacco. No. C'è l'abbracciatrice! C'è l'abbracciatrice! Dio! Vai, vi... Eh, sono di nuovo morto. Niente, quella puttana di Isacco non è venuta con noi. Potevamo andare avanti. Ma nulla. Concludo qui anche questa seconda parte della demo. Scusatemi se non ho finito le... Queste due demo. Queste due parti delle demo. Ma è una roba impossibile. Diversamente, per questo video è tutto. Ciao a tutti e buone notte. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.